L'equitazione non si è mai fermata, neanche durante il Covid, ma tornare nei circoli con la stessa armonia prima dell'emergenza sanitaria è tutta un'altra cosa. L'aria che si è respirata al centro equiome di Cervetri, tra natura verde e cavalli, ha dato il via a Poniamo, evento di carattere regionale al quale hanno preso parte 450 cavalieri tra i 5 e i 16 anni, quindi divertitesi nelle discipline di dressage, salto ad ostacoli, endurance e tanto altro ad animare un weekend pieno di sorrisi e successi. Siamo tutti come un po' timorosi, però è bellissimo, riusciamo a sorridere, a condividere questa gioia di vedere questi bambini che giocano, che sanno insieme, sembra veramente di essere ritornati alla vita. È una bellissima esperienza, è auspicabile che presto tutte le discipline possano riniziare, perché il mondo dei bambini, dei ragazzi, in questo momento ha bisogno che si riapra, perché hanno bisogno di... lo sport va comunque incrementato. Beh, senza altro la sensazione è quella di una rinascita. Oggi vediamo tanti binomi presenti in questa manifestazione, che è una manifestazione diciamo abbastanza sentita nella nostra regione e mi auguro insomma che possiamo continuare su questa strada e che comunque la situazione evolva per il meglio. Per molte famiglie vedere i propri figli riprendere le attività a pieno ritmo è motivo di soddisfazione. Devo dire che ci siamo liberati veramente di un peso, di una cappa enorme che ci ha soffocato per questi due anni praticamente, anche se la nostra attività è un'attività che grazie a Dio è potuto continuare. Stare in un contesto del genere è veramente bello, emozionante per i ragazzi e anche per gli istruttori. Andiamo! Andiamo!